Musica Solo un anno fa è così che in maniera probabilmente anche simbolica il Presidente della Giunta regionale Marcello Pittella ha titolato la conferenza stampa di fine anno durante la quale ha presentato i risultati e le attività della Giunta regionale ma dell'intera macchina regionale per il 2014. Noi abbiamo invitato nei nostri studi il Presidente Pittella che andiamo a salutare, al quale diamo un benvenuto nei nostri studi di TRM a Potenza. Buongiorno Presidente Buongiorno a lei, a chi ci ascolta, a chi ci segue. Per fare un po' una panoramica ripercorrendo insieme quello che è stato il 2014 è stato sostanzialmente un anno intenso, il bilancio si può dire positivo, si può dire negativo a tinte fosche, a tinte variopinte, partiamo da questo, che anno è stato? Un anno difficile ma per me di grande soddisfazione e anche di grande entusiasmo perché le sfide che andavamo a recuperare erano anche improbe difficilissime avendo ereditato la crisi del sistema dei partiti, della politica anche istituzionale, nazionale e anche regionale e avevamo bisogno di rimettere in moto una macchina spenta da troppo tempo su più versanti dalle riforme allo sviluppo e dovevamo recuperare in un anno quanto magari negli ultimi 4-5 non si era realizzato, non avevamo portato a casa come risultati o non avevamo anche messo in moto in termini di negoziati di possibili risoluzioni sul piano legislativo noi abbiamo fatto, è stato l'anno delle riforme, è stato l'anno della battaglia sul petrolio è stato l'anno anche in cui abbiamo fatto partire una serie di misure importanti per, magari ne parleremo, per gli ultimi e i penultimi e anche l'anno in cui abbiamo fatto partire bandi significativi sul versante dell'occupazione Senta, a proposito di macchina che si rimette in moto, lei ha definito la regione Basilicata come una Ferrari immaginiamo che si riferisca più che altro alle potenzialità di questa macchina piuttosto che alle corse che ha già compiuto Diciamo che la Basilicata recupera virtuosismi e anche lati non positivi diciamo l'uno e diciamo l'altro è una Ferrari e potenzialmente lo è e può correre anche ad altissima velocità si tratta di incrociare, di abbracciare il nuovo corso e di farlo con speditezza, con coralità, con condivisione e anche con una giusta velocità nel decidere Lei è stato consigliere regionale da un anno e presidente della regione secondo lei quali sono le marce in più di questa Ferrari, i pedali sui quali bisognerà investire Cos'è che la rende tale? Noi abbiamo bisogno di avere un piede sull'acceleratore della decisione e abbiamo bisogno anche di avere una rotta anche ben disegnata dove raggiungere obiettivi e traguardi che merita questa regione abbiamo bisogno di un volante, di un assetto di strada piuttosto stabile per cui tutti devono lavorare e tutti dobbiamo lavorare per raggiungere esattamente quegli obiettivi, quella meta Manteniamoci ancora su questa metafora c'è la macchina, c'è la strada da percorrere, c'è bisogno dunque di una visione e prendiamo il tema petrolio Tema petrolio, lei dice di essere riuscito ad ottenere importanti risultati ma c'è la visione per far sì che questi risultati ne producano degli altri? Assolutamente sì, noi non dobbiamo dimenticare da dove veniamo noi partiamo nel 1998 con gli accordi del petrolio non partiamo ieri e abbiamo all'epoca deciso di scegliere la strada delle estrazioni di quantificare le estrazioni attraverso degli accordi e queste estrazioni tra il 1998 e il 2006 portano o porteranno a 154 mila barili giorno dagli 80 mila, 84 mila attuali Oltre non si andrà Oltre non si andrà Abbiamo dimostrato come siamo in grado di respingere e quindi di dare diniego alle istanze di coltivazione e di estrazione in mare perché 4 ce ne erano e le abbiamo respinte Su 18 istanze abbiamo respinto 11 tra cui quella nel Vultro Emelfese Delle rimanenti 7 sono tutte in istruttoria e aspettiamo i pareri dei tanti attori che convergono per dare per esprimere un giudizio finale per cui sfatiamo il luogo comune che chissà quali e quante centinaia di estrazioni in questa nostra regione ci saranno cosa assolutamente non vera Recuperiamo in questo anno quanto abbiamo rincorso per almeno 15 anni Io sfido chiunque a dire il contrario Ripercorriamolo Presidente Ha detto l'attuazione di accordi passati non si andrà oltre i 154 mila barili ma ci sono stati dei risultati anche sul piano dell'IRES Noi avevamo scommesso sul famoso memorandum che è un po' il piano di sviluppo da realizzare per questa regione infrastrutture, occupazione, ambiente ecc Come lo potevamo realizzare senza avere una parte in percentuale delle tasse che i petrolieri pagano allo Stato Lo potevamo mai realizzare solo con le royalties che è una manciata di danaro? No Ma potevamo farlo con l'IRES Io prendo il volante di questa macchina per stare alla metafora e mi trovo un decreto zanonato che ci consegna 50 milioni di euro l'anno per nuove estrazioni con nuove compagnie cioè zero Apriamo un'interlocuzione anche con le parti sindacali e datoriali a livello nazionale e recuperiamo il 30% dell'IRES delle tasse che i petrolieri pagano allo Stato che non è una manciata di danaro li recuperiamo per 10 anni e per le estrazioni le attuali compagnie Con queste risorse noi potremo esattamente realizzare una parte di quel piano di sviluppo che altrimenti sarebbe stato un grande libro dei sogni come lo è stato per tanti anni Entreranno più denari diciamo in Basilicata Torniamo quindi alla domanda iniziale La visione di sviluppo qual è? Perché dovrà esserci? Altrimenti si tratterà soltanto di una riedizione delle royalties se noi non possiamo permetterci questo? Ma no, la visione di sviluppo cede anche condensata in quel documento ma anche in altre relazioni che abbiamo tenuto e approvato in Consiglio regionale noi abbiamo bisogno di connettere questa nostra regione sul piano materiale delle grandi infrastrutture Penso alla Salerno Potenza Bari ma penso alla Murgia Pollino penso alla Matera Gioia del Colle penso alla Complanare Materana penso alla completamento della Bradani attenzione, penso a quelle opere che abbiamo sbloccato in pochi mesi ferme da 4 anni tra cui la titobrienza 100 milioni di Euro si completa la titobrienza ricorso fatto ricorso pronunciamento del Tar si va avanti con i lavori penso all'altro grande lavoro che è la Potenza Melfi ancora oggetto di contenzioso negli ultimi tempi ma che si dovrà sbloccare e penso ancora al completamento della Potenza Melfi la parte Potenza Pietragalla forse addirittura ha più corsie per capirci non si tratta soltanto di un ammodernamento ma su questo argomento io penso che nei prossimi mesi dovremo ripiegarci insieme al Governo nazionale e all'ANAS per ennucleare le priorità infrastrutturali e costruire su questo un programma anche realizzabile in tempi celeri perché quel programma ci dà collegamento ma ci dà anche economia ci dà anche occupazione ma io penso che la visione della regione va oltre è una regione che intende spingere molto sull'alfabetizzazione digitale e dunque la gara partita è anche quasi conclusasi sul piano della partecipazione sulla banda ultralarga penso alla digitalizzazione delle scuole e questo è anche qualcosa che è entrato già nell'agenda del 2014 io la manterrei però ancora qualche minuto sul tema petrolio perché è stato il tema che ha tenuto banco a partire da giugno a partire da quando lei il 4 giugno incontrò il Ministro Guidi ed avviò l'interlocuzione su questi temi un tema che è stato particolarmente dibattuto è stato quello relativo all'articolo 38 articolo 38 che nella sua formulazione originaria dello sblocco Italia presentava dei profili di incostituzionalità perché sembrava rompere un po' il principio di leale collaborazione tra Stato ed enti locali la regione basilicata lei in particolar modo decide di non impugnare inanzi alla Corte Costituzionale così come avevano fatto tra l'altro altre regioni ma decide la strada del dialogo prende la sua mini Ferrari sempre per restare al tema e dice proviamo a modificarlo l'articolo 38 è stato modificato nella legge di stabilità le cose sono cambiate lei crede che basti questo per appianare il dibattito intorno al petrolio in Basilicata? No assolutamente no dico soltanto che però è un risultato che questa regione ottiene e non lo ottiene soltanto con la pancia la ottiene esattamente facendo leva su un elemento distintivo della classe dirigente di questa regione da sempre che è il dialogo responsabile con i livelli istituzionali superiori quindi col governo ma io col mio docente ci dialogo prima ancora di scontrarmi e con il mio governo al di là del colore l'ho fatto quando e l'abbiamo fatto quando il governo era di segno diverso da quello attuale regionale e oggi con il governo Renzi io ci voglio dialogare perché credo nel governo Renzi credo nella figura del presidente e voglio ancora credere nella leale collaborazione tra istituzioni non vedo per quale motivo io devo senza poter discutere aprire una vertenza come voglio dire a gamba tesa ci discuto qualora non riesco ad ottenere ragionando i risultati mi pongo in una condizione di opposizione l'impugnativa non è in agenda ma personalmente poi ne discuteremo anche in consiglio regionale ma io non vedo se l'obiettivo era impugno se non modificano il governo modifica addirittura riconsegna alle regioni la potestà di rilasciare le autorizzazioni nella fase di vacazio nella quale fino al termine della quale dovremo poi redigere e predisporre il piano per le estrazioni non vedo il motivo per cui uno debba impugnare se abbiamo ottenuto i risultati poi rimane alta diciamo così l'attenzione la volontà da parte della regione basicale di capire di più di approfondire di mettere in campo e di spiegare forze sul piano della tutela ambientale del controllo dei controlli non solo nell'area diciamo estrattiva ma andando molto oltre questa regione io la voglio controllare dalla A alla Z e così è stato disposto nei confronti di ARPAB a proposito di controlli lei lo stava già anticipando è stato anche l'anno della riforma di ARPAB è arrivato anche un nuovo direttore come sta andando l'ARPAB? secondo me bene sta andando secondo me l'ARPAB ha all'interno intelligenze preziosissime qualità professionali di tutto rispetto e l'attuale direttore è persona è persona specchiata risoluta determinata anche molto competente ha costruito insieme a tutta la sua squadra relazioni con ISPRE e con l'Istituto Superiore di Sanità e sta mettendo in campo dispiegando ogni forza per controllare tutti i siti diciamo così un po' più nevralgici quando lei è arrivato mi scusi se l'interrompo si era un po' rotto un legame tra i cittadini un legame di fiducia tra i cittadini ed ARPAB secondo lei si è sulla buona strada per recuperarlo? siamo sulla buona strada e noi faremo di tutto per recuperarlo ovviamente è facile rompere è molto più difficile costruire o ricostruire però il tempo è galantuomo ed è sempre portatore di verità basta soltanto sapere attendere la verità è che nella vita anche quella politica non sempre si riesce ad attendere e invece bisogna sapere attendere senta mi porterebbe molto su altro perché a proposito di attese io andrei sul versante politico ma mi terrei ancora ai fatti perché magari ci interessano ci interessano di più è stato l'anno delle riforme ARPAB consorsi di bonifica riforma dell'Alsia riforma dei consorsi industriali soppressione di Arbea insomma una governance regionale anche un po' modificata radicalmente è stato anche l'anno di alcune leggi la legge sul sistema formativo la 33 la legge sullo spettacolo la legge sulla cultura tante leggi ora le dovremo attuare è certo ci sarà un tempo c'è un tempo per fare le riforme per riorganizzare la macchina c'è un tempo per iniettare in questo nuovo corso anche nuove possibilità e diciamo l'attività legislativa lo fa pensa anche ad un mondo per noi diventato obiettivo strategico la cultura la legge sullo spettacolo dal vivo fatto di concerto con gli attori di questo mondo e c'è esiste o non esiste tra gli obiettivi tematici europei e nostri strategici la cultura e l'economia della cultura bene come si realizza se non attraverso strumenti legislativi e dunque anche l'ultima che abbiamo approvato ieri sulla cultura sull'utilizzo dei beni monumentali dei nostri tesori e noi abbiamo bisogno di incrociare e abbracciare la sfida di Matera 2019 o no? lo facciamo come Matera e come sistema Basilicata? penso di sì e quali altri strumenti noi possiamo mettere in campo se non quelli che abbiamo diciamo così approvato anche celermente e questo della cultura o della 33 o dello spettacolo dal vivo del sommerso e da tavolo da un po' Presidente gli ultimi sei mesi sono stati intensi da un lato il dibattito su grandi temi quali quelli del petrolio i temi energetici che vengono percepiti anche con una sorta di preoccupazione dall'altro lato anche tanto fermento legato proprio a Matera 2019 il 17 ottobre siamo stati incoronati capitale europea della cultura noi ricordiamo ancora quel giorno beh è stato un giorno di intensissima e particolare emozione che ha coinvolto ogni lucano io dico ogni italiano noi l'avremmo diciamo così vissuta la pari se fosse stata un'altra città Matera ha meritato questo titolo per la sua storia per le sue bellezze per la sua cultura anche inclusiva per la sua capacità di fare imprese per la sua capacità e quella dei cittadini materani e con i materani lucani di fare di essere al tempo stesso una piccola regione ma inserita in un ambito culturalmente europeo se non mondiale io penso che l'amministrazione comunale abbia fatto bene l'associazione oggi fondazione Matera 2019 ha fatto bene la regione ha fatto benissimo prima del mio insediamento con il mio insediamento a potenziare non solo economicamente le iniziative che sono state messe in campo ci apriamo all'Europa con Matera tutta la Basilicata lei ha annunciato anche di voler organizzare un incontro europeo in Basilicata che mette insieme le regioni del sud chi meglio di lei insomma non so se è in Basilicata non ho detto per la verità il luogo si farà soltanto capofila vedremo sicuramente sì perché la mia idea è esattamente questa chiamiamo le regioni del sud chiamiamo il ministro per gli affari regionali quindi il governo nazionale nella persona del sottosegretario della presenza del Consiglio può essere del Rio Lotti chiamiamo il capo struttura di Juncker e chiamiamo i vertici europei perché il mezzogiorno d'Italia all'interno dell'Italia deve poter competere con una sua strategia al piano Juncker sugli investimenti e sulle infrastrutture perché mi solletica molto pensare al potenziamento dei porti nel sud e mi solletica molto molto dire a Juncker che è giusto che il mezzogiorno d'Italia abbia l'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria e dal Molise a Bari e noi con la trasversale poterci connettere siamo o non siamo nella potenzialità cerniera e allora quale dimensione migliore è quella europea recuperando una cooperazione interregionale una cooperazione molto mediterranea tra l'altro Mediterraneo Porta dell'Europa sicuramente non si vedranno subito i risultati anche di un'interlocuzione avviata i risultati però si aspettano sul versante dell'occupazione in Basilicata da un lato c'è la necessità di avere una visione attenzione perché senza una visione questa regione rischia di campare alla giornata e noi non ci possiamo permettere il lusso di pensare domani mattina soltanto noi abbiamo bisogno di pensare che cosa accadrà da qui a dieci anni sapendo intercettare ciò che sarà accadrà da qui a dieci anni e anticiparne mosse, azioni e anche effetti poi c'è un tema un po' più contingente che è l'emergenza sociale e la ripresa dello sviluppo quindi dell'economia e dunque dell'occupazione però come ho avuto già modo di dire io non è che mi traverso da Batman e decido le sorti e salvo il mondo in un giorno tra l'altro lo disse proprio in questi studi e noi scherziamo su questa esatto ma è così però è anche vero che se vedo il primo bando del 2014 sull'occupazione sui voucher assunzionali e mi ritrovo 1662 domande tra stabilizzazioni e nuove assunzioni non voglio dire che ho risolto il problema delle soccopazioni ci mancherebbe ma sto cercando stiamo cercando di invertire un trend senta lei ha detto una cosa molto interessante non può essere sempre il pubblico a fare occupazione ci deve essere un tessuto imprenditoriale tale da sostituirsi anche all'invadenza del pubblico diciamo negli ultimi anni come diventare attrattivi per investimenti seri importanti di grandi aziende di grandi imprese penso anche alla chimica verde noi stiamo lavorando sulla chimica verde e stiamo provando a portare diciamo in base di carta in Valbasendo questa iniziativa ma più complessivamente noi abbiamo bisogno di un salto culturale capendo una volta per tutte che il pubblico che oggi Cuba è oltre il 50% del PIL lucano non può andare oltre il pubblico non ce la fa ai nostri giovani devo dire che sono ancora a scuola studiate molto approfondite molto attraverso la regione specializzatevi fatevi master provate a costruire ponti con altre realtà per conoscere attraverso i mine Erasmus che noi finanziamo e poi dico anche conoscete e approfondite le lingue perché noi siamo nel mondo non stiamo soltanto in base di carta e poi dico anche attenzione l'Europa ci sta dicendo che si va verso l'autoimprenditorialità e quindi ogni soggetto deve sentirsi imprenditore di se stesso siamo in grado di trasferire questa possibilità questa potenzialità questa opportunità ma anche questa necessità o pensiamo che ancora c'è il politico di turno che risolve i problemi presso le strutture regionali io penso che non ci sia questa condizione e allora vogliamo valorizzare i settori green vogliamo valorizzare l'agricoltura il biotech l'automotive l'osservazione della terra queste sono le grandi sfide le nuove frontiere vogliamo fare nel mezzogiorno in Italia in base di carta il più grande incubatore di start up senta a proposito di occupazione lei citava l'agricoltura che cosa è avvenuto nel mondo agricolo in questo 2014 beh innanzitutto abbiamo sbloccato tutti i pagamenti che insomma da tempo un po' giacevano e considerando che abbiamo anche tra le altre cose riformato Arbea avendo la soppresse avendo immaginato quel segmento proprio di un soggetto pagatore all'interno del dipartimento abbiamo approvato il PSR mandandolo in Europa in men che non si dica non a fine anno il piano di sviluppo rurale il piano di sviluppo rurale ma nelle primissime settimane della legislatura dall'inizio della legislatura abbiamo messo in campo bandi agli osa cercando di accelerare sì sì a fiumi cercando di accelerare la spesa il gap che noi riscontriamo purtroppo è che c'è una crisi mordente sulla diciamo sull'imprenditore sulla testa dell'imprenditore un dialogo difficile tra l'imprenditore e il mondo creditizio e il cortocircuito rispetto alla capacità di spesa che la regione mette in campo si tratta anche lì di potenziare una capacità attraverso un fondo di garanzia in convenzione con Ismea che è una partecipata dello Stato e si tratta esattamente di assistere di accompagnare più che assistere gli imprenditori di quel settore anche attraverso una politica un po' più lungimirante di sostegno al credito liquidazione degli alluvionati è avvenuto anche questo durante quest'anno è certo che è avvenuto certo senta Presidente abbiamo ancora la sanità la sanità che alla fine all'inizio del suo mandato anzi era in ottima salute è proprio il caso di dirlo attualmente che cosa è cambiato come sta la sanità lucana perché sono arrivate anche abbastanza molte critiche su questo versante devo dire la verità a me non spavendono le critiche mi meraviglierei se non vi fossero le critiche su tutto persino sul colore dei caperti delle persone ci mancherebbe poi la sanità è quanto di più esposto ci sia è evidente la nostra sanità da un punto di vista delle eccellenze è in buona salute dal punto di vista della tenuta dei conti è in ottima salute tutto è migliorabile tutto è perfettibile e allora stiamo esattamente su un'idea un po' più lunga che dice la sanità lucana su che cosa si deve puntare le proprie eccellenze 3-4 cose non 40 cose abbiamo candidato la reumatologia per essere IRCS però lei terrà in piedi tutti i presidi ospedalieri della base di casa assolutamente sì è una scelta politica compiuta già da tempo e i presidi possono essere una risposta alternativa alla sanità tradizionalmente intesa perché se ogni territorio pensa di avere un pronto soccorso attivo ovviamente non può averlo ma se noi costruiamo le condizioni per l'emergenza così come è articolato sul nostro territorio il DEA di primo livello Matera il DEA di secondo livello Potenza le grandi eccellenze del San Carlo per indenderci con Matera la ricerca avanzata e la risposta alla terapia e alla cura e alla ricerca oncologica al CROB poi hai sul territorio da riconvertire gli ospedali guardate noi stiamo riprendendo Tinchi l'abbiamo ripresa come progettualità condivisa con l'azienda sanitaria di Matera condivisa con il comune di Pisticci condivisa con il comitato abbiamo ripreso i lavori stiamo andando avanti a sprombattuto così come abbiamo recuperato qualche anno di ritardo sul Lago Negro e ieri c'è stata o il 29 il 28 c'è stata la conferenza di servizio e in un'unica conferenza di servizio recuperiamo tutti i pareri favorevoli e sblocchiamo l'ospedale unico di Lago Negro ci sarà poi l'istituzione della fondazione Basilicata ricerca biometrica e ancora l'istituzione centro medicina ambientale in Val d'Agri sto andando solo per titoli perché ci interessa anche il tema politico rifarà l'aggiunta ci dovrà essere l'aggiunta politica andranno via tutti e quattro insieme gli assessori gliela dico proprio così o cambierai i tempi le rispondo proprio così questa aggiunta a mio giudizio è meritato capisco che la politica ha i suoi tempi e le sue regole e io non mi voglio sottrarre ovviamente qual è stato il valore aggiunto l'essere asettici rispetto al territorio e l'avere relazioni nazionali e internazionali preziosissime ci sono state delle ricadute reali per queste relazioni in queste relazioni la Basilica cosa ha giovato? ma certamente sì perché quando tu affronti il tema dell'emendamento sul DEA di secondo livello qui a Potenza si stava perdendo il DEA il San Carlo stava perdendo lo status di DEA di secondo livello si mantiene per un emendamento dell'assessore Franconi e per le relazioni che ha col Ministero l'assessore Franconi per l'amor di Dio questo vale anche per Liberali che è stato direttore generale sulla ricerca in Europa che è stato direttore di struttura con il Ministro Profumo voglio dire noi abbiamo personalità berlingueri lo stesso Ottati sull'agricoltura abbiamo personalità che hanno sprigionato e hanno consegnato a questa nostra regione quindi non saranno più assessori ma li terrà accanto ma lei vuole a tutti i costi che non siano assessori intanto apriamo dopo metà gennaio dopo la finanziaria alla discussione politica poi capiremo se saranno meno assessori non mettiamo limiti diciamo così la Giunta non avverrà nei primi mesi del 2015 me lo sta chiedendo o lo sta dicendo e non lo so invece cambierà le nomine di alcuni enti della regione Basilicata quali sono innanzitutto ma no la sanità cambia diciamo va a rinnovo delle cariche apicali quindi tutti i direttori generali delle aziende sanitari poi avremo diciamo entro il primo esercizio dell'anno 2015 a Quedotto Lucano dove io penso e propongo l'amministratore unico e avremo io penso a breve anche sviluppo Basilicata Presidente in un anno da Presidente da Governatore si sente diverso rispetto all'inizio con qualche borsa in più agli occhi ma devo dire la verità questo è stato un anno per quanto difficile per me che vivo con grande passione la vita l'impegno nella società nelle istituzioni è stato un anno entusiasmante pari alle difficoltà cosa non rifarebbe di quest'anno probabilmente rifarei tutto anche le mie intemperanze a volte aiutano a risolvere ad affrontare con più forza più vigore le problematiche che ci sono sul campo ci sono sempre tante cose da correggere però io sono un entusiasta della vita dell'impegno un ottimista della fatica perché io credo che col lavoro le cose si fanno però bisogna lavorare e bisogna crederci anche quando sembra un sogno poter raggiungere un obiettivo io la ringrazio per essere stato nostro ospite parleremo ancora di questo sogno speriamo che ne saranno realizzati il più possibile per tutta la Basilicata questa è una promessa che lei fa nei nostri studi quindi torneremo sicuramente a parlarne così come torneremo a parlare della finanziaria regionale che ancora non è stata approvata ma dovrà essere anzi dibattuta in consiglio regionale in questi giorni io la ringrazio ancora una volta buon lavoro a lei a tutti grazie noi per questo spazio di approfondimento dedicato non solo alla politica ma alla regione Basilicata nella sua totalità grazie al presidente della giunta regionale Marcello Pittella che è stato ospite nei nostri studi ci fermiamo qui vi ringrazio per l'attenzione e linea alla regia grazie a tutti grazie a tutti